Rabbia e malinconia Rabbia e malinconia sono i due sentimenti che mi accompagnano da un po' di tempo. Rabbia perché mi accorgo di vivere in una società in cui prevale l'individualismo alla voglia di fare squadra, di fare sistema, in cui non si è ancora capito che ormai da soli, soltanto da soli, si va poco lontano. Malinconia perché non capisco come mai non si riesca a creare questa sinergia, questo interesse verso l'innovazione, questa voglia di fare per andare avanti e crescere tutti insieme. Malinconia verso un sistema creditizio il quale non vede al di là di prestiti ad altissimi interessi e ad altissime garanzie.